Pronto soccorso, posti letto di medicina generale, chirurgia generale, cardiologia, ortopedia, anestesia, rianimazione, attività di urna di cardiologia, ortopedia, riabilitazione, posti letto per la lungodegenza, riabilitazione e oncologia con l'impiego dell'acceleratore lineare e l'ingresso nella rete oncologica regionale. È in estrema sintesi quanto si realizzerà per l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti con l'ok dell'aggiunta regionale alla mozione presentata dal consigliere Erasmo Mortaruolo sul decreto 41 del 2019. Condensa il diritto di un territorio ad avere una sanità efficiente e qualificata ma anche tante battaglie portate avanti con tavoli tecnici, incontri con i cittadini e i comitati, tavoli tecnici regionali e nazionali per riqualificare il presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Goti. È considerato che sono molteplici le istanze provenienti anche in queste ore dall'istituzione e dalla comunità civile in favore di un potenziamento del presidio. Con la suddetta mozione si impegna l'aggiunta regionale a intraprendere con sollecitudine tutte le azioni necessarie per l'attuazione del DCA 41 2019. Per la struttura attesa anche un'importante convenzione con l'istituto Pascale. È un segnale importantissimo. Dal primo aprile abbiamo il professore Ascierto che starà a Sant'Agata che non farà soltanto ambulatori ma farà anche operazioni importanti. Il consigliere regionale Luigi Abbate invece cerca un piano riguardo alle altre strutture sul territorio e chiede in consiglio un'audizione ufficiale per evidenziare le criticità esistenti al Sampio di Benevento e poter migliorare l'offerta assistenziale.